A partire dal 5 luglio saranno applicati i dazi su veicoli elettrici a batteria prodotti in Cina. Lo ha stabilito il 4 luglio la Commissione europea. Si tratta di una decisione epocale destinata a ridefinire le relazioni di Bruxelles con Pechino e a sollecitare misure di ritorsione nei confronti dei produttori europei. Ci sono interessi industriali e interessi industriali in Europa e la nostra investigazione ha chiaramente mostrato che c'è un problema che si tratta tra queste imparate pratiche da Cina, tra gli interessi dell'industria europea, quelli che producono veicoli elettrici in Europa. Il provvedimento, anticipato all'inizio di giugno, è il risultato di un'indagine approfondita che ha rilevato la presenza di sovvenzioni lungo l'intera catena di fornitura dei veicoli elettrici a batteria prodotti in Cina. L'introduzione delle misure sarà per il momento provvisoria. Gli Stati membri terranno una prima votazione tra due settimane, che non sarà però vincolante. Le tariffe rimarranno in vigore fino alla decisione finale di novembre, che i Paesi membri potrebbero bloccare con una maggioranza qualificata contraria.